Abominio, distruzione di massa, morte civile incalcolabile, il Giappone è sotto attacco, una nuova minaccia l'abilisce le sponde dell'isola nipponica sotto la forma del mostro Kakasenno, le forze navali e di aviazione giapponese sembrano assolutamente incapaci di contrastare questo nuovo pericolo, ci sarà qualcuno in grado di salvare il Giappone? Probabilmente no, ma forse anche sì, vediamo che cosa starà facendo in questo momento il più famoso degli eroi giapponesi, ovvero il nostro Maramanga, salvaci tutti prego! Giants, 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 vai che gli facciamo il culo a queste stranzi di Osaka! Edizione straordinaria del nostro TG, oggi Tokyo devastata dalla comparsa di questo mostro lumacofono che le autorità hanno ribattezzato Kakasenno. Nelle scede di distruzione colpite nella sequenza una scuola elementare, un ospizio per anziani, una fabbrica di preservativi e lo stadio dove si stava disputando la ultima partita del campionato di baseball fra i Tokyo Giants e la comparsa di Osaka. La partita ovviamente è stata annullata e vittoria della partita e del campionato a tavolino per la squadra di Osaka. Maledetto! Vieni qua che te la faccio pagare! Mi avete fatto perdere di scommessa sulla partita! Ah ma adesso è il noto! Aspetta, dove vai? Oh! Guarda, dove mette i piedi! Nooo! Ah, gli aiuto! Forse serve un piano. Ah, questo ci rivela forse un'impresa troppo titanica anche per il nostro maramanga? Mmm, potrebbe essere, ma sembra avere già un piano il nostro eroe. Forse con l'aiuto del noto professore Fansworth riuscirà ad espellere questa minaccia dai suoli giapponesi. Professor Fansworth? È in casa? Come sta? Sì, eh? La vedo ancora più vecchia ed è crepito di prima. Mi serve una mano! Come faccio? Non posso certo combattere quella bestia con queste dimensioni! Non ha un qualcosa? Un robot gigante? Un missile termonucleare? Qualcosa da prestarmi? Eh, cosa? Un mostro lumagofono? Ma cosa ti sei bevuto? Sei andato di nuovo al barezzo, eh? Ma non esistono cose simili? Eh, no! Aspetta, cos'è? Ah, il soffitto! Ah, porca loca! Eh, professore, ancora vivo, eh? Non è che allora ha qualcosa per risolvere questo problemino? Eh, le mie ossa! Non sento più le gambe! E' di comunque fortunatamente avevo inventato l'anno scorso un raggio ingrandente! Non pensavo che mi sarebbe mai servito a dire la verità se non in occasioni speciali! Ma prova a metterti di sotto e vediamo se funziona, eh? Sì, sì, funziona! Funziona! Sono un genio! Datemi il Nobel adesso, maledette chicche di Stoccolma! Ah, il nostro eroe Maramanga non manca mai di risorse! Ora vediamolo all'azione contro questo mostro! Mamma! Mamma! Guardaci, Maramanga! Sì, vieni a salvarci! Sì, no! Guarda dove vai! Ah! Ah, ah, ah! Adesso non siamo più tanto grossi, eh! Adesso te la faccio pagare! In nome dei Giants! Prendi questo! E anche questo! Sì, e prendi questo! Ah, no! Staccati, staccati! Ma cosa stai facendo? Aiuto, cos'è questa cosa che preme? No! No! Non ho capito! Non trovo! Ballami! Ballami! E il nostro eroe Maramanga ce l'ha fatta di nuovo! Salvando la città di Tokyo, questa volta dobbiamo dirlo in un modo abbastanza inusuale, anche alquanto schifoso. Il mostro Kakaseno e il suo sguardo innamorato ci fa pensare che sarà abbastanza difficile per il nostro Maramanga per uscire da questa situazione. Beh, cosa dire? Tanti auguri e figli maschi, Maramanga! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.